Terzo video Si stiamo dilungando Non lo so stiamo aspettando Poi Pensate che dobbiamo mangiarla noi mica a terzo cazzo a lei Ma va Quindi Quindi Concluso il video No, spiegaci poi cosa fanno dentro Tipo lavorano Si Li chiamano per fare tipo di spettacoli Li chiamano per fare degli spettacoli E questo è stato fatto anche in America il primo Poi dopo l'hanno fatto anche in In Grecia Però non l'ho ancora visto Poi in Messico e in Spagna No, si è rimasta In Italia No, l'hanno fatto Tamari Dove tu sai cos'è? Era Tamari simile Cioè schifo Sì Però non era uguale Era 2010 Sì Non lo so Era una cagata assurda Perché non era assolutamente uguale Perché loro poi lavorano Si Vengono pagati Infatti Che hanno fatto in Italia Che ricorne i soldi Che è tornato A Doddy Shore Noi si è preso la La Ferrari E la Lamborghini Pensate Perché guadagnano molto Si Comunque si festeggiano Li fanno vedere cosa succede Si Li fanno vedere festeggi Li litigano Li litigano di brutto Si mailano anche Si festeggiano in quel modo di ricitù Nessun No Comunque Vedete su youtube Bene Pagliare I nostri Giorni Ciao 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 Grazie a tutti.